Si avvicina ad una svolta storica per quanto concerne l'applicazione dell'articolo 37 dello statuto siciliano che così recita. Per le imprese industriali e commerciali che hanno sede centrale fuori dal territorio della regione ma che in essa hanno stabilimenti ed impianti nell'accertamento dei redditi viene determinata la quota del reddito da attribuire agli stabilimenti ed impianti medesimi. Semplificando, secondo questa norma e secondo logica spettano alla Sicilia le tasse pagate dalle imprese con stabilimenti sull'isola ma con sede legale altrove. Basti pensare alle multinazionali e alle imprese estrattive, tra cui le raffinerie petrolifere della Sicilia orientale, dalle quali il territorio regionale fino adesso è ereditato solo inquinamento e problemi di salute per i residenti delle zone circostanti agli impianti. La chiave di svolta è stato l'incontro tra l'assessore regionale all'economia Luca Bianchi e i rappresentanti del governo nazionale, a seguito del quale il Dipartimento delle Finanze siciliano, in accordo col Ministero del Tesoro, avrebbe predisposto un decreto già tra le mani del Presidente Crocetta. In base all'accordo in fase di definizione per il primo anno ci sarà una sorta di compensazione tra le imposte incassate dallo Stato ma che saranno girate alla Regione e trasferimenti statali in modo da non appesantire le casse di Roma in una fase difficile per il bilancio pubblico. Si tratterebbe di un miliardo e mezzo di euro in più all'anno derivanti dall'applicazione di questa norma che porterebbe più risorse da investire nello sviluppo. Inoltre nella sua missione romana l'assessore Bianchi ha iniziato a istruire un tavolo tecnico per cercare di mettere a punto la norma che permetterà l'utilizzo dei fondi FAS per finanziare il trasporto pubblico locale e i collegamenti marittimi con le isole minori. Si tratta di circa 300 milioni di euro che permetteranno al governo di liberare risorse dal bilancio della Regione. Al di là delle nuove entrate per le casse regionali cui maggiori benefici saranno apprezzabili dal prossimo anno, secondo l'assessore Bianchi questi accordi permetteranno di aprire una nuova fase di politica economica in Sicilia oltre che fiscale.